Una bretella decisamente sfortunata, quella di collegamento tra via Sommito e Fontana del Re al passo di Mirabella, aperta definitivamente due anni e mezzo fa, nonostante fosse stata ultimata cinque anni prima, oggi è già quasi impraticabile. Asfalto spaccato e sollevato, buche in alcuni punti, erbe ed arbusti arrivano quasi sulla carreggiata. SOS degli automobilisti alla provincia, che in verità è già intervenuta tante volte per cercare di tamponare i problemi di questa piccola arteria, che voleva essere strategica in quanto collegamento tra le due statali, la 303 e la 90, e quindi sfogo per l'intenso traffico che si crea verso i centri commerciali in località San Michele. Ma la sua realizzazione nel 2010, all'epoca era assessore provinciale alla viabilità, Gino Cusano, è stata costellata da polemiche. Prima il problema di una cabina Enel che restringeva la carreggiata e che non si riusciva a far spostare, poi per i dubbi sulla pericolosità dell'innesto sulla 90 nei pressi di un dosso e di una curva, ed ancora perché la bretella, sostanzialmente completata e per un periodo utilizzata dagli automobilisti senza che vi fosse il collaudo, per ben cinque anni non è mai ufficialmente entrata in funzione, nonostante i solleciti del comune di Mirabella. Nel 2016 finalmente la soluzione, con il parere favorevole di Anas e provincia, di renderla percorribile a senso unico dalla rotatoria di via Sommito in direzione di Fontana del Re, con obbligo di svolta a destra verso Grotta Minarda, adottata proprio per ovviare alla pericolosità della svolta e dell'immissione da sinistra. Oggi il problema dell'asfalto che sembra aver subito un bombardamento.